Per me è poi opportuno l'occasione perché mi consente di visitare da subito alcune parrocchie, diciamo parrocchie pilota, parrocchie a guide, sede delle Polonia stesse. Quindi io voglio sperare che anche per me ci siano dei frutti da portare a casa e da utilizzare poi, dal punto di vista della pastorale, nell'esercizio del mio ministero episcopale. Monsignor Leonardo Bonanno, vescovo della diocesi San Marco Argentano Scalea, riassume così il significato della sua recente visita presso la forania di Belvedere Marittimo, comprendente una decina di paesi della circoscrizione vescovile da cetraro a diamante. L'occasione per la visita del vescovo, ordinato di recente nella diocesi tirrenica in sostituzione di Domenico Crusco, è stata data dal congresso eucaristico vicareale di tre giorni, dall'8 al 10 di aprile, vissuti nelle unità pastorali di Scalea, Belvedere e San Marco Argentano. Grande è stata la partecipazione della popolazione, proprio come nel caso della visita di venerdì scorso del nuovo vescovo presso la parrocchia della Madonna di Pompei di Belvedere Marittimo. Nella diocesi di San Marco Argentano Scalea, il congresso eucaristico si è rivelato anche come occasione privilegiata di preghiera per sostenere l'ordinazione episcopale di Monsignor Bonanno che, proprio presso la parrocchia della Madonna di Pompei, ha svolto la sua prima uscita ufficiale. La serie di incontri di preghiera nei centri vicari della diocesi è stata ispirata dall'imminente celebrazione del 25esimo congresso eucaristico nazionale in programma ad Ancona dal 3 all'11 settembre 2011, sul tema Signore, da chi andremo l'eucaristia per la vita quotidiana.